Comandante, oggi è il suo ultimo giorno alla caserma dei Vigili del Fuoco della provincia di Treviso. Negli ultimi tre mesi la provincia di Treviso ha visto un elevato numero di vittime sulla strada, ci sono state 30 vittime. C'è qualche consiglio, qualche iniziativa che secondo voi, che fate spesso questi interventi, potrebbe essere messa in campo per ridurre il numero delle vittime? Ma guardi, questo è un aspetto non di diretta competenza nostra, notiamo anche noi questo grosso numero di incidenti stradali, rispetto alle altre province anche del nord mi pare che Treviso sia quella che abbia un po' più, una incidenza maggiore di incidentistica stradale. Ne facciamo diversi interventi, non mi sento di poter dare un'indicazione tecnica, però a parte la velocità e che quindi sono le forze dell'ordine deputate a fare questi tipi di controllo, probabilmente una protezione maggiore delle sedi stradali potrebbe essere un'indicazione, una valutazione da fare. In provincia di Treviso i fenomeni di maltempo intensi quest'anno sono stati più frequenti, come sono stati gestiti sul territorio? Sul territorio abbiamo dato una risposta adeguata con il sistema integrato di protezione civile, sia noi che siamo deputati al soccorso tecnico urgente, ma anche la protezione civile regionale, provinciale e comunale ci hanno dato una grossa mano e quindi siamo riusciti in maniera abbastanza brillante a risolvere le criticità che sono emersi nel territorio. Questi 14 mesi siamo riusciti ad ottenere due obiettivi, il primo è quello della definizione della nostra questione della sede aeroportuale, che ormai non è più rispondente alle nostre esigenze e quindi di concerto con la società di gestione, a cui do il mio ringraziamento unitamente al prefetto che ha fatto un'attività di coordinamento per divenire a questa soluzione, per cui in tempi brevi, ragionevolmente in un paio di anni, riusciremo ad avere una nuova sede più confacente sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista logistico.